Come nasce una notizia? Quali sono i tratti fondamentali da riconoscere e saper comunicare efficacemente all'ascoltatore? Quali sono le basi del lavoro giornalistico? Quali segreti della parte tecnica? Come vive una redazione nella sua quotidianità, ma anche nei momenti straordinari? Domande cui lo staff di Antenna del Mediterraneo ha provato a rispondere di fronte agli studenti del liceo classico scientifico-linguistico Sciasciafermi di Sant'Agata Militello, ospiti della nostra emittente per il progetto di alternanza scuola-lavoro. Otto studenti delle terze classi dell'Istituto hanno vissuto diversi giorni nella nostra redazione, seguendo passo passo il lavoro di giornalisti e tecnici, ascoltando nelle spiegazioni e scoprendo cosa c'è dietro a un TG o a un programma televisivo. Osservatori, ma non solo. Gli alunni del liceo Sciasciafermi sono stati infatti i protagonisti del lavoro di redazione, cimentandosi in prima persona nella ricerca e nella stesura di notizie, nella realizzazione e montaggio di un servizio televisivo. Seguiti da Giuseppe Romeo, tutor del progetto di alternanza scuola-lavoro, gli studenti hanno quindi scelto un tema libero, vicino alle loro esperienze, come la gita scolastica, piuttosto che peculiarità del territorio in cui vivono. Sono andati in giro, filmando e documentando, hanno raccolto informazioni e interviste, hanno scritto il loro pezzo che poi hanno montato insieme al nostro staff tecnico. Infine, si sono cimentati nella parte più difficile, detta loro, quella della presentazione di fronte alle telecamere. Dal loro lavoro d'esordio giornalistico, carico di entusiasmo e voglia di conoscenza, è venuta fuori un'edizione speciale del nostro telegiornale, interamente a cura degli studenti, che proporremo ai telespettatori questa sera alle 22 e replica domani alle 15.30 e che sarà poi disponibile sulla nostra piattaforma internet e social. E chissà che gli studenti non siano stati più bravi di noi? Grazie.